Il quadro di Gesù misericordioso è tornato al proprio posto nella sua chiesa di Mariconda, quella di Maria Santissima del Rosario di Pompei di Salerno, dove era stato rubato nei giorni scorti e portato via a bordo di un'auto. E' stato restituito alla comunità del quartiere, rientrando questa volta a bordo di un SUV della Polizia di Stato. Sono stati gli agenti della questura di Salerno dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato a restituire alla parrocchia guidata da Don Angelo Barra l'immagine sacra che era stata rubata nel pomeriggio di sabato 17 maggio da un uomo dalla cappella a Tigua la Chiesa. Un furto che è subito diventato virale con le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso l'atto compiuto da uno sconosciuto che indossava una mascherina per camuffare il suo volto. A divulgare la notizia attraverso i canali social era stato Antonio Bracciante, residente attivo nel quartiere e storico portatore della statua della Madonna di Pompei, mostrando la foto di un uomo mentre caricava in auto il quadro. Ma la sua sagoma non è passata inosservata né ai residenti che ai fedeli del quartiere che, oltre a diffondere sui social, network, foto e video, si erano anche messi alla ricerca dell'uomo per recuperare l'immagine sacra. Nonostante non fosse partita una denuncia formale alle forze dell'ordine, di fatto il quadro è stato recuperato dalla polizia di Salerno dopo la segnalazione di un rigattiere di via Luigi Guercio che aveva trovato il grosso quadro dinanzi alla sua attività commerciale. Recuperato dai poliziotti e portato alla caserma Pisacane, sono stati avviati gli accertamenti per risalire al proprietario del quadro e ben presto si è ricostruito l'accaduto. Possibile, anzi molto probabile, che sia stato lo stesso ladro pentito a far sì che il quadro potesse essere ritrovato e restituito alla chiesa. Per fortuna non è stato danneggiato ed è stato restituito con altrettanta cura dagli agenti di polizia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato diretti dal vicequestore Sabato Fortunato, custodito in questi giorni per volontà del questore di Salerno Giancarlo Conticchio nella cappella della caserma di polizia di via Sant'Eremita. Ieri mattina il quadro sacro con l'immagine raffigurante Gesù misericordioso con una tunica bianca contornata di luce dove in basso c'è scritto Gesù confido in te è stato accolto da canti ed applausi nella parrocchia di Mariconda. Il quadro di sentita devozione è stato sistemato a destra dell'altare dove ieri mattina nell'ultima domenica di maggio quando volge al termine il mese mariano si sono svolte diverse celebrazioni religiose. Sono molto grato, ha affermato Don Angelo Barra per il recupero del quadro esprimendo il suo ringraziamento agli agenti di polizia al questore Conticchio per il recupero dell'immagine sacra di Gesù misericordioso.